Siete sempre stati in tantissime chiedermi quali punte giovani adatte ai sistemi di gioco del Milan e anche ai paletti imposti dalla nuova società per quanto riguarda i nuovi acquisti a titolo definitivo cioè parliamo di ragazzi under 21 ma già con una buona esperienza alle spalle Gli investimenti come abbiamo visto con Decaytelare possono anche essere di un certo livello sicuramente però come anche detto da Maldini si tratterà di un discorso da fare il prossimo anno andiamo comunque a vedere in questo video quali sono i migliori giovani attaccanti under 21 che si sono messi in mostra per ora in questo inizio di stagione 2022-2023 come vedete attraverso Wisecout ho filtrato i giocatori fino ai 21 anni e prendendo un po' spunto delle caratteristiche del nostro attuale Giroud cioè tiri in porta ogni 90 minuti, precisione nei tiri in porta, quante volte fa gol ogni volta che tira in porta è venuta fuori questa interessante lista che vi porto quest'oggi primo nome già costato al Milan in passato è quello di Yuri Alberto attualmente però come vediamo il proprietario è lo Zenit San Pietroburgo che l'ha lasciato in prestito al Corinthians secondo nome interessantissimo sul quale però purtroppo sarebbe molto difficile il Milan ci arrivasse quello di Mukoko. Anche di lui ne avevamo già parlato un annetto fa giovane 17enne del Dortmund che già sta giocando diverse partite da professionista un nome poi molto interessante è quello di Gonzalo Ramos del Benfica 21enne non si tratta di una prima punta vera e propria vediamo infatti che in passato ha anche giocato come trequartista quindi un calciatore che fa comunque molto movimento vediamo però che nelle ultime stagioni è sempre stato impiegato come attaccante e non ha una valutazione per il momento troppo alta anche se sappiamo in Portogallo si compra sempre carissimo per il momento comunque ha valutato 14 milioni di euro altro nome che potrebbe fare al caso nostro e sappiamo tutti che in Francia ci guardiamo parecchio è quello di Elie Sepe Uai anche lui nasce esterno poi portato a prima punta si tratta comunque come vediamo di un under 21 francese con una media di un gol ogni 180 minuti ottimi numeri vedete per un calciatore come detto così giovane quasi un 60% di precisione di tira in porta ma l'accio invece i passaggi sotto il 70% ma attenzione a questo Uai perché tra tutti i nomi di questa lista mi sembra il più fattibile vediamo poi infatti che c'è Benjamin Scesco di lui che dire oramai è andato all'Ipsia il prossimo anno giocherà sicuramente nell'Ipsia abbiamo visto tutti nell'europeo che gol pazzesco che ha fatto qua vediamo un profilo 21enne della MLS non credo che faccia al caso nostro già che qua in cima in questa lista solo per l'alta valutazione 8 milioni di euro doppio passaporto colombiano e appunto statunitense passare dall'MLS al Milan però se non ti chiami Ibrahimovic è dura abbiamo visto tanti calciatori che appunto sono passati dall'MLS in campionati come la Serie A e ci vuole un po' di tempo per adattarsi l'ultimo se vi ricordate Riccardo Pepi che è stato preso se non sbaglio da una squadra tedesca e poi dato in prestito in Olanda dove adesso infatti sta iniziando a fare qualcosa nome poi che potrebbe rivelarsi interessante è quello del brasiliano Lázaro Vinicius Marquez ma questo non come attaccante vediamo infatti dalla mappa di calore che si tratta di un esterno sinistro che però sta facendo molto bene qua in Spagna Arda Gullar poi si tratta di un giovane talento molto bravo turco ma che anche lui avrà bisogno di parecchio tempo prima di poter far fare un salto di qualità non solo a noi ma anche al Fenerbahce una squadra attualmente dove milita nella quale non è ancora titolare da tenere d'occhio poi questo Jerry Balogun ex Avisimons che se vi ricordate nasce trequartista ma se vedete l'ultima partita del PSV in dove sta giocando come falso 9 chiudiamo poi questa lista con Lorenzo Colombo come vi dicevo proprio precedentemente in uno o due video fa ha una delle migliori medie di percentuale di tiri in porta di come vedete tantissimi calciatori lo troviamo qua in basso proprio solo perché è valutato meno e questa lista va in base alle valutazioni di mercato ma se guardiamo le sue statistiche di questa stagione tira verso la porta addirittura 3,32 volte ogni 90 minuti con una precisione dell'83% per darvi le statistiche di Holland tira 3,83 volte in porta ogni 90 minuti con una precisione del 56% ovviamente la Premier League non è la Serie A il Lecce non è il Manchester City e questo sono sia punti a favore che a sfavore tanto di Colombo che di Holland perché comunque tirare così tante volte in porta in una squadra come il Lecce con una precisione così alta ragazzi è da tenere d'occhio il nostro Lorenzino Colombo poi ovviamente non è tutto il tiro ci sono tantissime cose da valutare la testa del giocatore capacità tecniche, tattiche e quant'altro per questo non è detto che di questa lista tutti diventeranno i futuri Holland possiamo però vedere che sono presenti gente come Cesco o Mukoko dei quali si sta già parlando tantissimo quindi sia mai che tra un paio d'anni sentiremo parlare anche di qualcun altro di questa lista il nome che faccio per il Milan quello più probabile potrebbe essere questo UAE andatevelo a vedere altri obiettivi poi come Iuri Alberto Mukoko, Gonzalo Ramos sono fortissimi però sicuramente chiederanno già queste squadre dai 50-60 milioni in su e non credo che ci spingeremmo così tanto Benjamin Cesco è il mio preferito probabilmente anche il vostro ma oramai è andato ma come detto occhio al nostro Lorenzino Colombo che piano piano potrebbe diventare un prospetto interessante quest'anno ragazzi ha iniziato molto bene in Serie A ha tanta concorrenza di davanti nonostante ha trovato gol e qualche minuti se riuscisse a trovare un po' più di continuità in una squadra che non lotta ogni volta per salvarsi allora secondo me si tratterebbe veramente di un altro Lorenzo Colombo immaginatevi Lorenzo Colombo al Red Bull Salzburgo o se vogliamo stare più in basso allo Sturm Graz piuttosto che all'Austria-Vienna secondo me sarebbe un sicuro titolare i 20-30 gol in un campionato austriaco come fatti da Hoylund o come si pronuncia questo qua danese appena acquistato dall'Atalanta del quale si parla pure lui un gran bene come detto secondo me sarebbero ben altri numeri perlomeno in quanto a gol fatti per Lorenzo Colombo che ragazzi finora diciamocelo l'anno scorso ha lottato quasi per salvarsi dalla Serie B quest'anno sta lottando per salvarsi dalla Serie A ragazzi e ciò nonostante tira di media tre volte in porta ogni 90 minuti non ogni partita perché ovviamente sta giocando 20 minuti a partita questa è la mia formazione questa settimana come vedete ho fatto due campionati qua 0 punti sapendo che avrei fatto 0 punti ma anche facendo 0 punti mi regalano una carta quindi fatelo tutti il campionato casual anche se non avete carta da schierare dove invece ho schierato gli unici 5 calciatori che mi giocavano era nell'Academy dove invece ho vinto una Tier 1 Common è vero che se avessi schierato questi calciatori qua nella Casual e questi qua nell'Academy avrei vinto solo una carta però con questo punteggio nella Casual sarei arrivato a una Star Common non so cosa è meglio se vincere una Star Common o due carte io in questo caso ho optato per vincere sicuramente due carte quindi sono andato sul sicuro però è vero che avendo poi visto come sono stati spartiti i premi questa settimana vedete come sempre dal 101 al 10% vincevano una Star Common io con 265 punti vedete che sarei arrivato al sopra al 10% quindi avrei vinto una carta però era Star Common quindi migliore rispetto alle due che ho vinto era però solo una e non sapevo se l'avrei vinta in questo caso invece mi sono assicurato il ricevere due carte adesso io preferisco fare così perché avvicinandosi il Mondiale poi le carte disponibili nel gioco saranno sempre meno quindi se vorrò continuare a giocare campionati gratuiti è importante che abbia tante carte anche se sono scarsotte durante il Mondiale poi ci saranno giornate nelle quali pochi calciatori sono schierabili e averne tanti disponibili secondo me poi può fare la differenza per vincere poi magari premi un po' più importanti come sempre qua sotto trovate il link per iscrivervi al gioco ogni 5 carte gialle ne riceverete una gratis proprio solo se vi scrivete attraverso il mio link un mi piace al video e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao